Simone, che emozione è questa sera? Emozione grandissima, far parte di questa grande società con tutti questi campioni è una cosa che non si può descrivere. Domanda? Sì, domanda veloce. Cos'è che ti ha lasciato per la Juventus? L'organizzazione, i gol fatti, gli amici, i compagni, il tifo? Alla Juve è uno stile di vita, quindi ho lasciato tutto perché poi quando vai via dalla Juve sei stato 5 anni qua ti leghi tantissimo alla città, alla Juventus, alla famiglia e quindi quando torni resti sempre in famiglia, è una cosa fantastica. Non ci vedevamo da un po' di tempo, sembra che ci siamo visti vieni. Grazie. Questa Juve può lottare per lo Scudetto? Assolutamente sì, può lottare per lo Scudetto, ha tra virgolette lo svantaggio ma ha il vantaggio di giocare domenica domenica quindi penso che non possa lottare per lo Scudetto. Ok, facciamo sempre più inoltre...